Siamo con Roberto Bassissi, Presidente di Ecoricerche SRL e parliamo di recupero dei rifiuti nei cicli produttivi. Buongiorno, siamo molto contenti di essere qui in questa manifestazione che ormai è alla sua nona edizione, credo che sia, e noi abbiamo già l'esperienza anche di anni passati, è una collaborazione che si va sempre più implementando con l'evento Ravenna e diciamo che la cosa importante è essere presenti in questo ambito che è quello della ricerca anche sull'ambiente perché stiamo portando avanti da diversi anni una collaborazione che diventa sempre più fattiva anche con l'Università di Modena con il quale ci sono stati diversi contatti in questi anni anche attraverso delle tesi che vengono svolte da studenti laureandi presso la nostra sede e che portano a affrontare dei problemi che possono risolvere sicuramente il nostro contributo per l'ambiente. Grazie a tutti.